Grazie a tutti. Abbiamo avuto cose più positive che negative, questo sicuramente, abbiamo giocato con un'ottima squadra, fin quando abbiamo avuto le energie necessarie siamo stati bene in campo, abbiamo giocato bene, abbiamo difeso bene, tranne nell'occasione dove abbiamo subito il gol, quindi cose positive e altre sulle quali sicuramente dobbiamo lavorare e sfruttare questi 13 giorni che mancano e le prossime amiche che mancano per sistemare ancora le cose che ci possono permettere di arrivare all'inizio del campionato nella migliore condizione possibile per l'inizio del campionato. La mia seconda e ultima, se posso, ha impressionato almeno per quanto mi riguarda Reinders perché ha una bella gamba. Tigi, così. Se anche a lei ha fatto queste impressioni in queste settimane e poi Pioli come si pone l'aspetto Charles de Chiederare che oggi non c'era, può andare all'Atalanta anche se ci sono delle difficoltà. Lei l'ha avuto per un anno, quindi ci può raccontare il vissuto di questo ragazzo. Per quanto riguarda Tigi, è un giocatore intelligente, è un giocatore che fa giocare bene la squadra, ma è chiaro che dobbiamo trovare ancora dei meccanismi perfetti. Mi piace come abbiamo le caratteristiche del centrocampo, dei giocatori che abbiamo, perché possiamo giocare in vari modi. È arrivato anche Musa che è un giocatore probabilmente più ancora di gamba, di aggressione, di pressione e anche di inserimento. Quindi possiamo mettere insieme delle caratteristiche diverse e completare il centrocampo con delle buone soluzioni. Per quanto riguarda Charles, non c'è da stasera perché c'è qualche situazione di mercato. È stata un'annata dove ci si aspettava molto, dove lui si aspettava molto, dove tutti si aspettavano molto e dove non è riuscito poi a dare tutto quello che può. E quindi adesso si tratterà di capire qual è la soluzione migliore per noi e la soluzione migliore per lui. Ciao Stefano. Tanti volti nuovi, squadra rivoluzionata. Quando si dice che questa potrebbe essere, da un lato, la sfida per Stefano Pioli, ma anche una difficoltà. È vero oppure sei affascinato da questa sfida di trovare le giuste alchimie in campo? No, preoccupato no. O meglio, io sono sempre preoccupato. Credo che l'allenatore debba essere preoccupato perché bisogna cercare di alzare il livello. Perché negli ultimi anni siamo tornati ad essere protagonisti in Italia e in Europa. Per continuare ad essere il livello delle nostre prestazioni, il livello dei nostri atteggiamenti deve essere altissimo. Credo che la società abbia operato molto bene prendendo giocatori sì giovani, sì di prospettiva, ma giocatori non da costruire, ma giocatori che arrivano già con un bagaglio importante. Mi piacciono come si stanno inserendo, mi piace lo spirito della squadra, mi piace come sta lavorando insieme la squadra, assolutamente. La tournée è andata benissimo per quello che volevamo fare, per quello che volevo vedere in termini di attenzione, di disponibilità, di volontà. Quindi credo che abbiamo le qualità giuste per giocare bene il calcio che piace a noi. Poi è chiaro che sarà il campo a determinare tutti i risultati, tutti i giudizi, ma io sono sicuramente entusiasta di allenare questo gruppo qua, assolutamente. Perché ho ritrovato le stesse sensazioni in quelli che allenavo già, che conosco molto bene, in quelli che invece sono arrivati. Bravissimi ragazzi, molto contenti di essere il Milan e giocatori di qualità. Quindi di più non potevo chiedere. Sulla questione Krunic, la stessa domanda di De Ketelare gliela faccio su Krunic. Ci sono voci di mercato? Ho detto che per me il centrocampo, così come è, i giocatori mi piacciono e così per me sarebbe al completo. Come lo vede? Perché si parla comunque di lui che è molto allettato, dà un'offerta, lei ci ha parlato. A me piace quando ho fatto queste domande, si dice, si parla. Chiediamo a lei. No, appunto, ma secondo te farei giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa in un'altra parte o che mi dice altre cose con gli atteggiamenti, i comportamenti. Non sono le parole che contro, ma sono gli atteggiamenti. Rade da qua, su questo non ha mai sbagliato. Grazie. Mister, due cose veloci se posso. Palladino ha parlato di un Milan più o meno da scudetto, ho detto una frase, mi hanno impressionato, sono da corsa. Mi incuriosisce capire qual è la favorita per lei. E poi una cosa su domani, se rivedremo Ciucuezze, Ocafor e Musa dall'inizio. Sì, li vedremo sicuramente dall'inizio, ma non credo che potranno avere più di 45 minuti in questo momento, ma li vedremo sicuramente all'inizio. Abbiamo organizzato questa micro-ore soprattutto anche per loro e soprattutto per dare minutaggio a tutta la rosa, perché abbiamo bisogno di tutti, dal 21 di agosto. Credo che come sempre ci saranno sei sette squadre che partiranno con un obiettivo bello chiaro, che è quello di conquistare di nuovo i primi quattro posti che ti garantiscono la Champions League. E noi, come abbiamo fatto negli ultimi anni, partiremo con quell'obiettivo lì e partiremo soprattutto cercando di vincere la prima partita del campionato. Credo che dobbiamo continuare su questa strada e pensare di fare il massimo da oggi, che è l'8 agosto, mancano 13 giorni per arrivare nel miglior modo possibile alla partita di Bologna, difficile. Ma siamo il Milan, vogliamo provare a giocare bene e poi vogliamo provare a vincere. Grazie.